Allora, Michele Santoro, da dove vuoi partire? No, vorrei partire da questa favola che Bersani ogni volta ci racconta in maniera rassicurante del Principe Azzurro centrosinistra che ancora non è arrivato ma che poi a un certo punto arriverà. Io mi chiedo a che punto e con quali valori perché i nostri telegiornali non ci informano come ben sappiamo, almeno quelli della RAI che dovrebbero farlo per obbligo, sul fatto che per esempio il Parlamento europeo ha discusso una mozione che è stata approvata dal Partito Democratico, nella quale mozione si chiede praticamente di prolungare la guerra tra l'Ucraina e la Russia fino a quando l'Ucraina non avrà riconquistato completamente i territori compresi la Crimea e di fornire all'Ucraina tutto quello che è necessario, missili, armi, bombe, munizioni, di qualunque tipo di arma possa essere utile al raggiungimento di questo scopo e di innalzare la spesa militare per raggiungere questo scopo. Questa è la mozione che è stata approvata con la partecipazione del Partito Democratico. Ora io mi chiedo come li vogliamo affrontare questi problemi degli italiani? In che modo? Senza mettere in discussione il sistema di guerra nel quale viviamo i trappolari? Ma se io ti lo mandassi?